Anche il Partito Comunista si candida alle prossime elezioni amministrative a Monte San Savino. Claudio Eminenti il candidato a sindaco. Sì, io mi sono candidato perché è una parte molto importante di questo caso perché 30 anni fa preciso io ero candidato consigliere a Monte San Savino, eletto dal Partito Comunista a Monte San Savino e a distanza di 30 anni io mi sono candidato a sindaco del comune di Monte San Savino. Poi per il resto ci sono tante cose da dire e da fare perché ho visto che soprattutto a Montagnano ma anche a Alberoro ci sono le strade che sono veramente un massacro totale, tutte buche vi scorrendo e non vengono asfaltate. Ci sono da fare 4-5 rotonde credo importanti a partire da prima di Alberoro a quella di Montagnano che è la più delicata, poi ci sono il gas e la luce che manca e bisogna arrivare nei punti determinanti laterali, nel senso che bisogna arrivare fino ai confini. Bisogna asfaltare le strade perché nonostante tutto anche le strade andranno asfaltate con la rotonda che c'è da via Don Riccardo a Guzzi per andare a Monte San Savino, lì va ripristinato tutta la strada perché è disconnessa nel vero senso della parola e ci va fatta una rotonda e portato luce e gas fino anche lì all'ultima casa. Poi le questioni sociali, la questione sociale è molto importante per i disabili, per esempio io sono andato l'altro giorno in comune, non c'è una scala per un disabile per salire su al consiglio comunale. Poi la parte anche dei camposanti che sono una parte delicata perché non si può mettere una persona in un loculo e poi ritoglierlo per metterlo dall'altra parte e quindi ci vuole di fare organizzare i loculi anticipatamente e oltre ai loculi ogni camposanto sia di Palazzolo che di Monte San Savino che di Montagnano che di Alberoro ci va messo lato eletto. Come ha scelto la sua lista? La lista è stata scelta in base alle persone, siamo stati tutti e nove concreti e convinti della nostra scelta, non abbiamo superato i nove della lista proprio per il motivo perché i voti non vanno dispersi, i voti dei cittadini prendendo 30 voti da quello e 30 voti da quell'altro e quindi chiaramente abbiamo fatto una scelta ben precisa, ponderata. Per concludere l'appello al voto. Allora l'appello al voto, il mio partito è un treno, il Frecciarossa che non ha sterzo quindi non è pilotabile però nello stesso tempo si ferma tutte le stazioni quindi chi vuole entrare entra nel treno, chi vuole uscire esce in qualunque momento non ci sono problemi. L'appello più forte che faccio è a quei cittadini che non hanno più fiducia nelle istituzioni. Ecco mi rivolgo soprattutto a loro perché cambierà molte cose in questi cinque anni.